Si chiama Milano Parla Piano, il secondo LP di Wrong On You, pseudonimo di Marco Zitelli, musicista e cantautore romano, al debut in lingua italiana dopo una serie di preziosi collaborazioni con artisti del calibro di Zibba, Dardas e Catu. Come hai adattato la tua vocalità folk ai test in italiano? Sostanzialmente è un po' come sfida inizialmente così per vedere che usciva fuori perché comunque sia avevo sempre solo cantato in inglese, avevo pure solo ascoltato musica in inglese, quindi mi sono proprio approcciato per la prima volta all'italiano anche per quanto riguarda gli ascolti e ho scoperto anche molte affinità tipo tra Battisti e Boniver e quindi ho un po' studiato, ho cercato di capire come funzionasse la scrittura in italiano e tentennavo un po' inizialmente perché comunque sia ho scoperto che l'inglese era anche uno schermo no? E quindi ho deciso di togliere sto schermo e finita la prima canzone in italiano e poi mi è partita la penna e quindi mi sono trovato bene. Debuti in italiano omaggiando Milano? Ma il fatto che è stato un caso, però ho cominciato a scrivere in italiano nel momento in cui mi sono trasferito a Milano, però non è collegata la cosa in verità perché cioè ho cominciato a scrivere due dischi in inglese che poi ho mollato e poi è uscito fuori questo in italiano e visto che ho notato che mi riusciva molto bene scrivere e parlare di cose quotidiane e il fatto che vivessi a Milano c'è rientrata a pieno in mezzo. Dai Castelli Romani ai Navigli, com'è stato il passaggio? Ah bene, è stato come comunque sia andare a vivere in città per la prima volta, ho trovato tutte le comodità, i lati positivi, la comodità del muoversi e tutto quanto. Poi comunque sia una città che si vede che cerca di stare al passo con l'Europa, vuole avere un posto primato e quindi è molto funzionale, funziona bene, sono un sacco di iniziative anche per la musica, poi la moda, la cultura eccetera eccetera. Gli aspetti anche negativi, magari il fatto che comunque non c'è tanta calma e quindi devi ricercare in determinati spazi nella città, mentre dove stavo io prima, magari non più in campagna, in cinque minuti stavo in un bosco, stavo sereno, invece qua ho dovuto cercare un po' dei posti segreti. Quale messaggio c'è la Milano Parla Piano? È quasi una richiesta, durante la canzone la frase completa dice Milano Parla Piano almeno questa notte, nel senso che è una città molto frenetica, a un certo punto gli dico senti, visto già ciò da fare stasera delle robe, parla un attimo piano, almeno questa notte, quindi il cambio duro è stato quello, è passato da un'energia a un altro tipo di energia, c'è molto fermento, magari Roma è un po' più viscerale per certi punti di vista, Milano invece è più frenetica, però tutte e due hanno un loro tipo di caos, Milano è un po' più di classe a volte. In che zona abiti di Milano? Io sto in San Gottardo, come zona, Navigli, San Gottardo, c'è continuo movimento, però ti dirò mi piace perché forse San Gottardo comunque è molto paese, diciamo, perché poi a forza di camminarci conosci tutti i negozi e quindi ho il Che Babbaro che ora mi saluta e comunque fa piacere, fa sentire un po' a casa.